Le due parti che sono un'ottava di differenza sono le due zampogna, da questa zampogna c'è un'ottava di differenza, siamo sempre in la bemolla, però questa è un'ottava più bassa. Ah, le due zampogna, voi usate quella lì, un'ottava sopra la tua, perché quella è più lunga, quindi fa più bassa. Questa fa da bassa, invece le due ceramelle sono sulle stesse note, solamente che con la coppia si fa da accompagnamento, quindi fa da armonia. Questa si trova al registro, che registro si può registrare? E se un'altra si può registrare? Ma no, certo perché non... Ma stai registrando, come va? Stai registrando, poi ve le do. Come? Sto registrando, poi ve le do. Ah, già in ordine? Sì. E allora a me mi dà le canzoni? Certo. Eh sì. Volentieri. Va bene, se registrano le... scusi eh. No, no, se ti vuole registrare, però registrate pure. Ma io ho una radio abbastanza affidata, è solamente che mi piacciono sempre le suonate paesane, tradizionali, così. Sembra quelle suonate... Ma come ti sembrano, sicuramente? Mi sembra un po' di quelle suonate un po' napolitane, come mamma da dove c'è il... Se bisogna zingare per abominare te, come ti ha fatto mamma da dove c'è il... Sembra che canta pure, comunque stasera sono pure un piazzio, se la prossima volta magari... Perché suona pure lui, eh? Lui suona... No, canta pure la canzone di Cimentale, tutti e tre, poi conto i 24.000 baci, felicità, non è un po' di più... Ma io dovete scusare, però... Ma scusate... Ma scusate... Ma mettete un po' più... Ma se l'ascoltavo a lei... No, no, per... Ma adesso erano di finanza, allora... Ciao, potete divertire... Ciao, scusate... No, no, no... Ecco, potete avere un amico... No, no, no... Quindi... Ciao... 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 Ciao...